L'ordine pubblico in un'area pubblica per un interesse pubblico come l'area mercatale impone l'autorità istituzionale e non i privati che si tassano. Quindi c'è un problema serio di controllo e di gestione dell'ordine pubblico, perché di questo stiamo parlando, con dei profili eventuali di danno erariale. Pensiamo cosa possa succedere se qualcuno si fa male e credo che ci sia un deficit gravissimo da parte dell'amministrazione comunale e in questo la competenza della Commissione Trasparenza. Intanto la chiusura dei Varchi sta creando problemi soprattutto ai fruitori delle aree mercatali. A fruitori ma anche agli operatori. Ho letto la nota del sindacato maggiormente rappresentativo che se ne è lavato le mani praticamente. Ripeto, questo è l'indice, la spia di una ipotesi di malagessio molto grave che è la cartina di tornasole di come si gestisce il bene comune e la cosa pubblica in questa città.